Partiamo sul 2015 con una realtà di numeri e di risorse che la legge nazionale di stabilità vede particolarmente punite le regioni. Anche su questo secondo me è mancata la leale collaborazione fra Stato e autonomie locali e anche su questo non ci diamo per vinti e daremo battaglia. Partirà immediatamente dopo Natale la discussione in Consiglio regionale sul bilancio di previsione 2015 che dovrà fare i conti con i pesantissimi tagli previsti dalla legge di stabilità. La manovra non è ancora definitiva ricorda l'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti ma il taglio di 3 miliardi e mezzo alle risorse delle 15 regioni ordinarie è purtroppo cosa certa. Quanti di questi toccheranno il Veneto verrà deciso il 31 gennaio nel corso della conferenza Stato-Regioni dove si dovrebbe vedere un'applicazione dei costi standard. I tagli totali ipotizzati dal governo ai bilanci delle regioni ammontano a quasi 10 miliardi. Per il Veneto si parla di una decurtazione di 747 milioni per un triennio. Una delle strade che stiamo percorrendo a concludere Ciambetti è quella di reperire le risorse direttamente dall'Unione Europea. Ad esempio nei fondi FEIS di questa programmazione comunitaria mentre la maggior parte delle regioni italiane hanno avuto una diminuzione di trasferimenti noi rispetto al 2007 abbiamo 200 milioni in più passiamo da 480 milioni a 680 milioni di risorse europee. Quindi già il nostro compito lo abbiamo fatto lo faremo anche per le risorse a regia diretta della Commissione Europea perché veramente i veri soldi che ci sono in questo momento dobbiamo cercarli in Europa.